Ciao bambini! Ciao bambino! Ciao! Tu sei bambino? Io sono un po' bambino! Un po' bambino! Un po' bambino di testa! Ah! Che è questo Le Deportae? Che è questo? Le Deportae è un'agenzia fantastica di animazione! Le animazione? Animazione! Gioso! Fantasia! E pinta, cara! E palloncini! E palloncini! Si! E divertimento! Divertimento! E conoscenza! E conoscenza! E tutti insieme! E poi vai! Ti sei divertito allora? Mi sono divertito alla grande! Mi sono divertito perché ci siamo conosciuti e l'importante è conoscersi e trasmettere energia! Energia positiva! Energia positiva durante i giochi, voglia di vivere, di fare, di insegnare, di insegnare una cosa bella, di insegnare la partecipazione ed essere aperti! Ma io con i bambini non ho mai lavorato! E' la cosa più semplice del mondo! Basta diventare bambino! Signora, siamo il primo professore in Italia per Deportae! E con noi farete tantissime cose! Diventerete bambini e diventerete sempre adulti! Faremo palloncini, trucca bimbi e tantissimi giochi, tantissime tecniche! Vi aspettiamo e benvenuti! Ciao! Ciao! Ciao!